Vittoria di misura del Palermo contro un Taranto costretto spesso a difendersi, ma ha confermatosi squadra di buone possibilità. Il Palermo ha sbloccato il risultato soltanto nella ripresa, ma già nel primo tempo aveva schiorato più volte il bersaglio, prima con Silipo, poi con Bencino, e infine con questo lancio a Calloni, che pressato da due avversari, ha concluso sul fondo. Al quarto della ripresa, vantaggio per i padroni di casa, con un assolo di Montesano. Lo stesso attaccante rossanero ha raddoppiato al ventitresimo, con una girata di testa di Calloni e deviazione da pochi passi. E al trentasettesimo è giunto il gol del 2-1, realizzato da Mutti su punizione di gole.